Finanziamento dagli Stati Uniti d'America per 3 milioni 800 mila euro in favore di un progetto pluriannale portato avanti dai gruppi di biologia strutturale e biologia molecolare della Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila. A derogare le risorse l'agenzia statunitense NIH, National Institute of Health, si tratta del più grande finanziatore pubblico della ricerca biomedica a livello globale. Nel dettaglio lo studio dell'Università dell'Aquila dalla durata di 5 anni è centrato sul come minimizzare i danni portati all'uomo da due tipi di parassiti che possono proliferare in acqua dolce. Si tratta dello schistosoma e del criptosporidio. Il primo è responsabile della schistosomia, sia una malattia endemica in molte regioni tropicali e subtropicali e che, secondo stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, causa ogni anno circa 200 mila decessi. La criptosporidiosi, invece, causata dalla criptosporidium parvum, colpisce con grande gravità nei paesi in via di sviluppo, porta dissenteria acuta e contribuisce a innalzare in maniera sostanziale la mortalità infantile. Il progetto pluriennale dell'Università degli Studi dell'Aquila, che collabora anche con l'Università dell'Illinois e il Rush University Medical Center di Chicago, mette al centro lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici basati sull'uso di proteine target ottenute con procedimenti di biologia molecolare che possano contrastare le difese dei parassiti contro il sistema immunitario dell'ospite.